In piena pandemia, con una crisi economica e finanziaria in atto e con i recenti rincari delle bollette, il Sindaco Seri e la Giunta pensano bene di inviare alle famiglie gli accertamenti per l'imposto sui rifiuti. È il commento dell'Udc che attacca le modalità con le quali l'Andreani Tributi, che gestisce il servizio di riscossione, sta recuperando le somme dovute e calcolate in base alle superfici catastali. Del vecchio che cosa viene chiesto nelle intimazioni di pagamento? Nell'intimazione di pagamento viene chiesto un recupero di 5 anni addietro della tariffa dei rifiuti. Ecco, però viene contestata un'infedeltà? Viene contestata un'infedele dichiarazione. In realtà la tasse dei rifiuti è stata istituita nel 1993, ci sono state una serie di tasse dalla Tarsu arrivare fino alla Tari del 2014 e nessuno ha fatto mai una dichiarazione, nel senso che il Comune inviava a casa del contribuente una bolletta con già scritti metri e venivano pagati dai contribuenti. Non la vedo un'infedele dichiarazione come c'è scritto. E avete verificato che viene conteggiato anche il 2016? In molti casi sono arrivate raccomandate o richieste nel 2022 con richiesta appunto del 2016, che è un anno già prescritto per legge, quindi un anno che non può chiedere Andreani i tributi per conto del Comune di Fano. Io credo che tra l'altro in un momento come questo dove c'è una grande crisi ai cittadini stanno arrivando bollette dell'energia elettrica, del gas, del metano, anche delle auto stesse che sono aumentate a dismisura, tutte le parti sociali chiedono aiuti, quindi sindacati e le imprese del territorio, il Comune di Fano cosa fa? Invia invece un accertamento esecutivo, per cui dice entro i 60 giorni mi devi pagare. In molti casi cifre non elevate, però che vanno dalle 2, 3, 400 euro fino a 1.000-2.000 euro, però sono cifre che ti costringono a prendere un tecnico per verificare i metri quadri, poi prendere un legale per verificare se si può in quel caso fare un ricorso. In molti casi non conviene, visto la cifra in discussione. Questo ha proseguito del vecchio e far cassa sulle spalle dei cittadini e in modo irregolare, visto che in base al regolamento approvato a giugno 2021, il Comune deve comunicare ai cittadini le discrepanze individuate sulle diverse metrature per una verifica successiva. Ora, ha aggiunto il coordinatore provinciale dell'Udc, se gli utenti non pagano entro i termini indicati, inizieranno le procedure esecutive, probabilmente tramite l'Agenzia delle Entrate, che potrebbe anche pignorare parte dello stipendio. E che cosa chiedete al Sindaco? Beh, a questo punto, visto anche i dati di fatto, bisogna che il Sindaco sospenda tutte queste cartelle. Io penso che i cittadini siano del tutto onesti e in maniera onesta pagherebbero quello che c'è da pagare, ma non in questa maniera. In molti casi, da quello che abbiamo riscontrato, sono errori di incrocio di dati, magari cose che non esistono più, oppure superfici che vengono calcolate in maniera sbagliata. Ci sono tantissime casistiche, per cui, ripeto, appunto per questo dovrebbe fare un incrocio di dati tra il Comune di Fano e i contribuenti cittadini di Fano.